Il presidente Eugenio Gianni ha consegnato il Pegaso della Regione Toscana al direttore d'orchestra, pianista e compositrice Beatrice Venezzi, 31 anni, lucchese, appena rientrata da Sanremo dove ha affiancato Amadeus e Fiorello nell'ultima edizione del Festival della Canzone Italiana. Abbiamo voluto assegnare il Pegaso a Beatrice Venezzi, una compositrice e direttrice d'orchestra di straordinario valore. Io ho potuto ascoltarla alla direzione dell'orchestra regionale toscana in un bellissimo concerto al Teatro Verdi a Firenze, ma in realtà la sua formazione è una formazione che si accompagna alla città natale, a Lucca, dove si è distinta in modo particolare anche nel contesto del Festival Pucciniano. E poi la Beatrice Venezzi è diventata un personaggio di livello internazionale. Sono molto onorata di ricevere questo premio, anche per le motivazioni che sono state espresse, perché riconosce comunque un lavoro che porto avanti da anni e che continuerò a portare avanti. La mia attività si è concentrata tantissimo anche su quelli che sono proprio le massime espressioni di questo territorio in campo musicale, partendo da Puccini fino a Mascagni, Busoni. E dunque, ecco, è un attaccamento particolare a questa terra. Beatrice Venezzi ha ricevuto il Pegaso non solo per la sua brillante carriera, ma anche per il suo impegno come opinion leader per la divulgazione della musica classica fra un pubblico più ampio e giovane.